...i treni stasera e quindi saremo quasi puntuali insomma. Buonasera a tutti e benvenuti al MAUTO, buonasera anche ai lettori di Quattroruote che ci seguono in streaming sul sito della rivista e naturalmente agli amici del MAUTO che ci seguono in streaming dalla pagina Facebook del museo. Quindi siamo molti coinvolti oltre a questa platea di distinguished guests che ringrazio e che ci fornirà sicuramente ulteriori spunti di conversazione. Questo convegno, questo talk show è il primo di tre e diciamo è un momento di approfondimento e di riflessione su un tema enorme che abbiamo lanciato con la mostra Drive Different che forse molti di voi avranno già visitato al piano terra del museo. In una mostra però non si può fare molto approfondimento, una mostra non è un libro, non è un convegno, è una mostra di semina dal mio punto di vista che l'ho curata, è un momento in cui si cerca di prendere la gente all'amo dicendogli stai a sentire per un po', leggi, cerca di portare a casa qualche cosa di quello che ti stiamo dicendo e poi approfondisci se ti è piaciuto, studia, cerca di capire di più da solo in un secondo tempo. Questo è lo spirito con cui vengono fatte le mostre, altrimenti dovremmo legare la gente a delle sedi o dei veicoli per costringerli a seguire delle cose che non si possono affrontare in piedi con uno spirito di svago e di divertimento anche con il quale andiamo alle mostre. Quindi ecco perché queste tre occasioni per cercare invece in due ore di dare delle informazioni più precise, capire meglio alcuni aspetti che sono molto complessi, molto dibattuti, cambiano ogni giorno, ogni giorno c'è una nuova notizia, un nuovo annuncio che modifica la realtà di questo panorama della mobilità del futuro a cui noi abbiamo guardato partendo dalla austerity, da questo lungo prologo che apre la mostra e che ci ricorda che 50 anni fa in questi giorni andavamo a spasso a piedi la domenica perché con la guerra del Chippo e la crisi petrolifera. Prima di presentare gli altri ospiti do la parola a Benedetto Camerana, Presidente del MAUTO che ci dirà alcune cose. Grazie Giosuè, rinnovo il saluto a tutti per due parole, due parole introduttive perché questo è il primo dei talk e quindi un po' inquadrarli nel senso di questa mostra. Io tra l'altro non dovrei essere qui, dovrei il merito di stare a casa ma siccome ci tenevo a venire e poi un'ora fa abbiamo avuto un importante incontro per il futuro del museo che era qui vicino per cui sono qua e quindi parliamo un momentino di questa mostra. Allora intanto la mostra tratta un tema estremamente delicato e delicato non solo perché come stavi dicendo è un tema in continuo di venire perché scientificamente, industrialmente, proprio come metodologie di produzione non solo del prodotto auto ma di tutto quello che sta intorno c'è un'evoluzione continua e quindi questi talk sono importanti proprio anche per aprire il dialogo a ciò che necessariamente viene cristallizzato nel momento in cui si definisce, si chiude e si inaugura una mostra. Una mostra trasmette una serie di informazioni, una serie di conoscenze e poi con questi talk noi vogliamo invece ampliare anche al non detto quello che è più sperimentale, a quello che forse sarà, a quello che potrebbe essere. E questo è fondamentale, il ruolo di questi tre dialoghi è fissato in questo aspetto. In linea di massima la mostra però vuole essere una mostra che fotografa in modo molto freddo e lucido lo stato dell'arte di quello che oggi si sa della mobilità, della transizione ecologica o energetica che dire si voglia, da qua a un certo numero di anni quello che oggi si sa che potrebbe essere da qua a un certo numero di anni. Ecco, questa è la volontà della mostra con un occhio abbastanza indipendente e qui viene il secondo aspetto delicato che è quello che una cosa è, diciamo, l'industria, quello che posso mettere sul mercato e una cosa sono le regole, nel senso che i regolamenti e qui parliamo soprattutto essendo noi in Europa i regolamenti della Commissione europea quindi c'è anche questo elemento che rende piuttosto delicato tutto l'argomento. Il museo si è lanciato in questa mostra che devo dire era già nella mente da un pochino di tempo perché era un momento, e oggi è veramente un momento in cui se ne può parlare perché stanno capitando delle cose che, se vogliamo, qui introduco l'ultimo aspetto si sta un po' rompendo questo dualismo assoluto motore a combustione interna, motore a propulsione elettrica alimentato dal librido al plug-in totale, il BEV, eccetera si sta un po' rompendo perché stanno irrompendo delle opportunità diverse come per esempio i carburanti sintetici che sono in via di approvazione dai regolamenti e che a noi come museo interessano molto in primis per il mondo delle automobili classiche perché sappiamo che un grosso produttore che ha una grande tradizione, ha un grande mercato di automobili classiche che sta sviluppando una produzione di e-fuel specifico per i suoi collezionisti perché così un'auto che chiaramente non può essere neanche euro zero può circolare tranquillamente con un tipo di carburante adatto ai motori a combustione interna che magari oggi non ancora ma a tendere diventerà con un bilancio ecologico più o meno paragonabile a quello di un'automobile elettrica questo è estremamente interessante però incorporato in un motore a combustione interna ma storico, classico, questo a noi interessa molto e altre storie che sono presenti nella mostra e che cominciano oggi, ripeto oggi a diventare più credibili, più efficaci, più proponibili e via dicendo in più, e qui chiudo, c'era l'opportunità storica perché noi siamo un museo quindi dobbiamo anche ragionare sulle ricorrenze, gli anniversari, i 50 anni dell'austerity è un buonissimo appiglio, non lo voglio chiamare scusa è un appiglio per dire 50 anni fa la crisi energetica tutta diversa da quella di oggi fu affrontata in questo modo riguardiamo con quel tono un po' da come eravamo che tu sai fare molto bene anche con la tua esperienza televisiva lo riguardiamo con quest'occhio e riguardiamo soprattutto all'oggio i 50 anni dopo e quindi è una missione che un museo che fa cultura dell'automobile deve dedicare fa cultura dell'automobile e quindi qui l'ultimo pezzettino che volevo ancora dire è che in un momento in cui l'automobile sta vivendo un po' questa doppia crisi una è una crisi industriale di sapere cosa produrremo domani non c'è un CEO di grande azienda automobilistica che la mattina non si svegli dicendo cosa si inventerà il regolatore cosa capiterà, cosa dovrò fare per forza fra 5 anni non lo so, non lo so ancora bene e questo è un aspetto assolutamente importante di questa crisi di identità dell'automobile quella industriale e poi c'è la crisi di identità diciamo un pochino così culturale che questa nascente ostilità urbana che sta un po' serpeggiando contro l'automobile sempre più da tenere lontano, lenta possibilmente ferma in un garage, non utilizzata eccetera, lo sapete insomma nella libertà di poter muoversi con tanti metodi diversi da micrometodi a sistemi pubblici generali eccetera l'automobile che dovrebbe essere neutralmente uno di questi senza nessuna connotazione negativa invece c'è una componente di ostilità sulla quale noi come museo stiamo lavorando molto con un approccio di cultura trasversale per cui stiamo lavorando, questo non c'entra con questa mostra con questo talk, ma sulla cultura dell'automobile nelle altre culture, fino alla letteratura, alla musica perché l'auto è parte di tutte le culture se ci pensate l'auto è dappertutto e quindi stiamo riflettendo proprio su come rivalorizzare una nuova idea, proprio l'idea stessa dell'automobile questo è, scusate se mi sono un po' prolungato a questo punto ti restituisco per il panel grazie, grazie Benedetto soprattutto grazie per essere venuto non proprio in forma come ti vediamo di solito allora, ecco, questo è il primo appuntamento sarà concentrato sull'elettrico anche con qualche dintorno abbiamo aggiunto nel titolo gli altri due che abbiamo citato saranno specifici proprio sui carburanti del futuro quindi i fuel, i biofuel, il biogas applicato all'autotrazione e quanto la chimica e l'industria ci porteranno nei prossimi anni il terzo appuntamento molto interessante e caro al MAUTO anche sarà invece sul design dell'elettrico e andremo a cercare di capire con il non design che in effetti se guardiamo come sono le autovetture elettriche che vanno per la maggiore oggi non possiamo dire che i designer si siano sbizzarriti liberamente come dei cavalli pazzi avendo a disposizione questa straordinaria giro di boa forse BMW con la sua i3 che ormai a dieci anni aveva precorso i tempi perché veramente quella vettura poteva piacere o non piacere ma era sicuramente diversa da tutte le altre adesso vedremo cosa succederà e lo faremo insieme a dei designer di generazioni anche diverse per avere la parola dei giovani e dei maestri insieme ma allora cominciamo dall'elettrico e cominciamo dalle persone che scusate ci hanno ascoltato finora in silenzio ma che saranno i protagonisti di questa serata allora alla sinistra del presidente camerana abbiamo Bruno Dallacchiara buonasera Bruno professore di trasporti al Politecnico di Torino e tra l'altro mio preziosissimo collaboratore nella stesura di gran parte dei testi specifici della mostra che avete visto a fianco di Bruno c'è Silvia Verace buonasera Silvia che rappresenta A2A in Mobility ed è una specialista di Urban Transportation Planning quindi ci parlerà della parte diciamo di fornitura alla colonnina se così possiamo dire ma anche io spero un po' prima della colonnina che è un argomento molto delicato al punto che qualcuno ha battezzato questo tema la sindrome da rifornimento poi abbiamo Roberto Boni buonasera Roberto collega emerito di Quattro Ruote responsabile della sezione tecnica del giornale e anche del centro prove del giornale che è stato uno dei punti di forza della nostra rivista poi abbiamo Lorenzo Morello buonasera anche a lei storico dell'automobile che sarà il primo a parlare e ci porterà un po' a spasso all'inizio del secolo per ricordarci cos'è stata la storia e l'evoluzione dell'automobile elettrica che un po' conosciamo a spanne ma ci sono alcuni giri di boa alcuni momenti molto interessanti e ultimo ma in realtà molto ambito Franz Leitner ingegnere buonasera direttore del powertrain engineering di AVL voi sapete che è una delle società leader a livello mondiale nello studio nella simulazione nei test per l'industria dell'automotive ma non altro ho saltato la dottoressa Lisbona scusatemi molto faccio ammenda non volevo essere scottese head of propulsion system per Stellantis nel settore del sud Europa giusto? grazie anche a Maria Grazia e allora purtroppo ci ha dato buca Gianluca Fulli altro collega del Politecnico e professionista dell'ISPRA che avrebbe dovuto coprire la parte sulla produzione dell'energia su come daremo da mangiare al parco dei veicoli elettrici ma cercheremo insomma con il concorso di tutti di arrivare a qualche spiraglio di luce anche in quella direzione cominciamo da Lorenzo Morello ingegnere lei potrebbe parlarci della storia dell'automobile per ore giorni e forse anche di più ma io le affido una decina di minuti chiedendole in particolare di evidenziare quali sono stati lo scenario iniziale perché dove nella pangea all'alba del mondo l'automobile avrebbe potuto anche essere tutta elettrica se le cose fossero andate in una certa direzione poi ma ecco ci farà notare ok grazie mi sentite sì dunque la storia è piuttosto lunga perché nonostante tutti credono che l'automobile elettrica sia ritrovato molto recentemente in realtà già circa 200 anni di storia non sono pochi dire chi abbia inventato l'automobile elettrica impossibile perché l'automobile e anche quella elettrica ancora di più è un sistema molto complesso quindi è il risultato del contributo di moltissime persone nell'automobile elettrica in particolare mi sono segnato le date perché le dimentico il primo che ci ha pensato sopra un ungherese un certo Agnors Jedlik e siamo nel 1827 ha realizzato un modellino di veicolo elettrico semovente dopo c'è un certo Robert Anderson scozzese siamo già nel 1832 e costui ha costruito veramente un'automobile elettrica aveva solo un piccolo difettuccio che era alimentato da pile non ricaricabili quindi evidentemente bisogna buttare via l'automobile intera tutte le volte che c'era da fare rifornimento secondo me l'invenzione chiave per la nascita della prima automobile elettrica è stata Gaston Planté che ha brevettato nel 1859 le batterie al piombo e queste hanno permesso a altri di costruire automobili il primo che ha costruito un certo numero di automobili in serie che era vendute è stato Charles Jantot e siamo nel 1881 quindi possiamo posizionare nel 1881 la nascita dell'automobile elettrica industriale in quegli anni era anche possibile fare un'automobile con un motore a scopio tant'è che Benz pochi anni dopo ci è riuscito perché Jantot e poi altri che l'hanno seguita hanno scelto la strada dell'automobile elettrica per motivi completamente diversi da quelli che ci motivano oggi vale a dire l'automobile elettrica era ritenuta preferibile perché non aveva bisogno di manovella d'avviamento non aveva bisogno di cambio non aveva bisogno di frizione soprattutto non puzzava non fumava e non emetteva rumori molesti e quindi la prima motivazione si impegnava centralmente sul comfort ecco mi scusi la interroppo un attimo perché questo riferimento alla puzza delle automobili mi riporta a quanto il signor Opel discendente di Adam Opel fondatore della omonima società in realtà partiva da macchine da cucire prima di fare le macchine le automobili mi disse pochi giorni fa mi diceva pochi giorni fa che il suo bisnonno era assolutamente incredulo di fronte all'automobile a motore a scoppio e quando i suoi cinque figli i famosi cinque fratelli Opel che poi fanno l'automobile perché sono loro che fanno le auto Opel insistevano lui diceva ma questa è una roba puzzolente che solo qualche aristocratico in cerca di divertimenti potrà mai comprare siamo nel 1870 pochi anni prima del periodo e questa era l'opinione di un capitano di industria che era già il più grande costruttore di biciclette d'Europa ed era stato un'apripista nell'ingegneria meccanica con le macchine da cucire direi che quanto ha detto mi evita un pochino di lavoro perché nata che sia l'automobile elettrica in realtà assistiamo a un successo clamoroso negli Stati Uniti e a un flop sostanzialmente quasi totale in Europa proprio perché in Europa il mercato dell'automobile aveva per clienti solamente non persone ricche ma super ricche quasi tutte di sesso maschile che erano interessate soprattutto alle prestazioni sportive alle complicazioni tecnologiche e quant'altro negli Stati Uniti la cosa è un pochino diversa non che l'automobile fosse un bene alla portata di tutti però diciamo che la gente era mediamente più ricca e tanti in più dell'Europa potevano accostarsi all'automobile e poi c'è un'altra cosa fondamentale che negli Stati Uniti l'automobile interessava anche le donne ma non sporadicamente interessava in percentuali sensibili per cui negli Stati Uniti l'approccio all'automobile è stato sempre molto più razionale che non in Europa l'automobile è stata percepita subito come strumento per migliorare la vita non come dimostrazione di status per cui nel 1900 preso come riferimento e anche perché è l'unico anno su cui siano dei dati certi negli Stati Uniti circolavano 45.000 automobili notare che in Europa erano solo 5.000 e di queste 45.000 il 40% erano automobili elettriche aggiungerei che un altro 40% era delle automobili a vapore di cui diciamo che esulano un pochino da questo discorso però erano preferite perché presentavano gli stessi vantaggi dell'automobile elettrica in termini di automaticità di funzionamento l'automobile elettrica era venduta nelle città dove c'era anche l'elettricità che ovviamente era qualcosa di indispensabile mentre quelle a vapore erano preferite nelle campagne andando avanti nel tempo direi che negli Stati Uniti dove c'erano i veri clienti delle automobili elettriche in realtà nessuno aveva delle serie preoccupazioni sull'autonomia limitata si parlava allora di 50-60 km a 20-30 km all'ora perché erano prestazioni tutto sommato simili a quella delle altre automobili e nessuno si sarebbe mai pensato di fare più di 50 km in un giorno su un'automobile qualsiasi per di più andare a comprare una latta di benzina del farmacista era altrettanto disagevole quanto ricaricare nel garage di casa l'automobile elettrica perché i distributori di benzina quando cominciano a esistere direi che in Europa non ho trovato dei riferimenti certi ma negli Stati Uniti andiamo nel 1910 1911 per la cronaca in Cina nel 1986 si comprava ancora la benzina in farmacia ecco quindi esperienza mia a un certo momento siamo nel 1920 l'automobile elettrica scompare totalmente scompare in Europa perché non era praticamente mai apparsa ma scompare anche negli Stati Uniti cioè praticamente diciamo che non troviamo più delle vendite sensibili sotto il punto percentuale dopo il 1920 viene a chiedersi perché la risposta è molto semplice l'invenzione del motorio in avviamento che del 1916 è stata dirompente per l'automobile elettrica e poi un'altra cosa la comodità di guida negli Stati Uniti era presente anche sulle automobili con motore a scoppio perché era diffusissimi i cambi semi automatici diciamo ben pochi dovevano cimentarsi con frizione cambio che era un pochino l'oggetto più ostico in Europa più o meno qualche anno prima pur non avendo nessun interesse su un'automobile elettrica c'è chi invece si preoccupava per l'autonomia ma non perché l'autonomia preoccupasse nell'uso pratico dell'automobile perché un'autonomia limitata a quei 50 60 km precludeva dalle competizioni sportive che erano l'unico strumento di comunicazione di pubblicità che le case automobilistiche avessero per promuovere i propri prodotti per cui vorrei ricordare abbiamo fatto proprio qui qualche anno fa una mostra che si chiamava quei temerari sulle strade bianche che raccontava proprio i primi passi e i primi grandi successi dei campioni sulle strade non sui circuiti ma sulle strade che la gente utilizzava tutti i giorni e che erano le strade sterrate che cominciavano un metro fuori le città perché non bisognava andare molto lontano ecco durante il fascismo fin dall'inizio siamo all'inizio degli anni 20 le competizioni sportive su strada su strada sono considerate una delle leve per poter orientare l'opinione pubblica verso gli investimenti per la costruzione di una rete stradale che non esisteva e verso la modernità e quindi il ruolo della competizione è stato veramente importante in quel frangente e infatti tutti ricordiamo e celebriamo le grandi gare che da lì in poi hanno cominciato a segnare il tempo e così certo e comunque per questo problema tutto sommato marginale qualcuno e un qualcuno abbastanza famoso perché si chiamava Ferdinand Porsche inventò l'automobile ibrida nel 1900 per offrire un veicolo che avesse la stessa praticità di guida di un'automobile elettrica ma non avesse nessuna limitazione dell'autonomia l'automobile ibrida nasce nel 1900 nel 1901 e in produzione dall'Austro Diner e anche in Italia avevamo delle automobili ibride che si chiamano però benzoelettriche in quanto il nome ibride è stato un po' inventato degli americani non tanti anni fa in ogni caso tornando a questo 1920 ibride elettriche muoiono in tutto il globo terraqueo e il motivo oltre a quelli a cui ho già accennato è anche il prezzo perché parlando degli Stati Uniti su cui ci sono dati economici abbastanza certi un'automobile una formodello T berlina costava 750 dollari la più economica dell'automobile elettrica ne costava 1200 una berlina però un scoperto una berlina costava 2500 e le automobili ibride costavano dalle 2500 ai 5000 dollari a seconda dell'allestimento quindi erano assolutamente fuori mercato e questa è una delle ragioni del fallimento dell'ibrido che ricordo ne parlavamo proprio col presidente Camerana pochi giorni fa aveva incuriosito e incuriosisce ancora oggi in una formula estremamente semplice da un punto di vista progettuale cioè che assomiglia un po' a quella che muove i locomotori diesel elettrici delle ferrovie insomma un generatore a gasolio che fa girare un alternatore che carica delle batterie che fanno funzionare un motore elettrico perché ridotto sulla dimensione delle quattro ruote questa formula non era efficiente non ha avuto successo non è stata abbandonata ma perché l'energia per arrivare alle ruote deve pagare Dogan in quattro posti diversi all'entrata del motore elettrico all'uscita del motore elettrico all'entrata della batteria all'uscita della batteria allora anticipo una cosa il motore ibrido di oggi ha tutta un'altra logica quello là era un cambio automatico elettrico quello di oggi è un sistema energetico che permette al motore di funzionare in condizioni meno disefficienti e diciamo palleggiando l'energia fra il motore termico e la batteria riesce a ottenere un risultato sensibile ma non è assolutamente da confondersi con l'ibrido primigenio così come da confondersi l'elettrico di oggi con l'elettrico primigenio diciamo che ibridi elettrici sono stati dimenticati salvo qualche traccia positiva durante l'ultima guerra per la mancanza di carburante sono rinnati almeno a livello di ricerca negli anni settanta con una motivazione assolutamente diversa cioè quel che interessava in quel momento non era più il comfort di guida ma era invece la riduzione delle emissioni inquinanti stiamo parlando di gas nocivi all'organismo non di CO2 ci sono state ricerche in tutte le parti del mondo risultati sostanzialmente nulli sostanzialmente perché quel che mancava era una batteria diciamo energeticamente valida installabile su un veicolo quindi parlando di automobili nacquero soprattutto automobili da città perché erano quelle che sfiguravano di meno per la bassa autonomia e per la piccola abitabilità ma sostanzialmente nessuno affrontò una produzione vera e propria molto bene allora fermiamoci facciamo una pausa qui e giriamo il microfono a Boni a Roberto Boni perché vorrei da lui da giornalista e attento osservatore del mercato così un breve panorama di che cosa è oggi l'offerta di veicoli elettrici che sappiamo essere molto già molto articolata e toccare degli estremi un po' patetici perché andiamo dalla Ami o dalla Topolino di recentissima introduzione che è davvero un quanto di più minimalista anche se molto gradevole molto intelligente ci si può aspettare fino alla supercar da 500 600 700 non sappiamo qua non c'è limite o mai o il SUV che però è elettrico e quindi diventa più accettabile Roberto come descriveresti il panorama dell'offerta ma intanto si può dire che negli ultimi anni c'è stato un aumento sensibile della scelta delle elettriche un po' di anni fa a parte gli esperimenti che sappiamo degli anni 90 che erano più che altro legati a finanziamenti governativi specifici l'arrivo delle Tesla che ha cambiato un po' il mercato ha dato il via alla nuova stagione dell'auto elettrica che oggi sta crescendo di giorno in giorno e già oggi la scelta a livello di modelli allestimenti e varietà di copie vettura è praticamente copre tutte le fasce di mercato a partire dalle SUV che guarda caso come anche tra le vetture tradizionali sono le più diffuse di fatto sono quasi la metà degli allestimenti disponibili oggi sul mercato europeo poi ci sono le berline propriamente dette le compatte intese come due volumi e poi ci sono le station wagon qualche sportiva e le station wagon come fa una linea di coda tra l'altro come anche ormai nelle vetture tradizionali a livello di varietà di diciamo segmentazione la parte più grossa la fa l'alto di gamma ormai anzi diciamo dall'inizio perché come tutte le innovazioni tecnologiche sostanzialmente si parte dall'alto perché sono dei costi maggiori che possono essere diciamo ripagati solo da vetture che hanno un margine sensibile e poi anche l'accesso a quelle innovazioni sono chiaramente possibili per le persone che hanno un maggiore potere d'acquisto piano piano si sta scendendo però sempre con livelli di prezzi ahimè tuttora soprattutto nella fascia bassa e media del mercato superiori a quelle delle vetture tradizionali sostanzialmente sappiamo per il costo della batteria che è il cuore dell'auto elettrica oggi il delta a parità se non proprio di modello perché non ci sono confronti in casa pari se non in alcuni casi però diciamo a livello di categoria il delta è di circa 10.000 euro in più per l'auto elettrica a sfavore e scende un pochettino andando verso l'alto verso l'alto si è sottiglia Roberto ti fermo un attimo perché a questo punto con la dottoressa Lisbona mi viene spontanea una domanda e cioè questo delta questo gap che è uno degli argomenti forti dei critici dell'elettrico soprattutto quelli un po' più basic che guardano all'oggi come si evolverà nei prossimi 5 6 7 anni 10 anni cosa cosa pensa quanto quanto poco costerà un'auto elettrica ma dunque innanzitutto premettiamo che un mondo che sta evolvendo tecnologicamente molto velocemente e quindi questo deve un po' come dire rincuorarci sul fatto che quello che vediamo oggi non sarà quello che vediamo fra 4 5 anni quindi il gap scenderà velocemente beh innanzitutto perché c'è una una ricerca nel settore molto importante molti capitali sono in questo settore quindi lo sviluppo sia di prestazioni che di di costo dei componenti elettrici è destinato a ad evolvere molto più velocemente di quello che abbiamo visto nel tempo sul motore a combustione interna su tutto quello che è stato poi lo sviluppo degli after treatment quando è arrivata la legislazione quindi io su questo sono c'è il messaggio che voglio dare che è un treno che è partito la ricerca è molto molto veloce e quindi credo che questo gap si eruderà velocemente beh poi devo dire che Stellantis per esempio ha lanciato adesso in Europa la prima Citroen con un prezzo al di sotto dei 20.000 euro quindi i costruttori si stanno impegnando molto su questo quindi ripeto da una parte il motore a combustione interna aumenterà come costo soprattutto per il post-attamento perché i limiti di emissioni diventano ancora più stringenti adesso adesso abbiamo il passaggio al euro 6 e bis poi ci sarà l'euro 7 sono tutti contenuti che tendono purtroppo a far costare di più il motore che di per sé è una tecnologia ipernota e per contro l'evoluzione nei materiali delle batterie uno sviluppo molto forte una verticalizzazione che vedremo anche negli OIM contribuiranno in modo significativo a far scendere questo terzo ecco le faccio una domanda che inserisce un po' un punto di vista laterale e non è quello dell'Occidente perché il tema può essere trattato da molti punti di vista a Torino abbiamo un certo approccio una certa visione del tema dell'elettrico a Buenos Aires già è diverso a Nuova Delhi o a Bangkok o nelle Filippine la cosa cambia completamente allora la domanda che volevo porle era se questo gap per noi ma grande scoglio per i paesi in via di sviluppo perché un'automobile elettrica è veramente oggi al di là delle possibilità della stragrande maggioranza delle popolazioni di questi paesi ecco anche in questa ottica noi vedremo nell'arco di dieci anni diciamo una maggior affordability come dite voi del prodotto oppure lì è una storia più lunga beh la domanda è difficile no e dare una previsione di anni è altrettanto difficile onestamente io penso che però ci arriveremo prima di qualche altra di altra di quello che abbiamo visto nel passato prima di quando è stato diciamo una sorta di armonizzazione dei livelli di emissione per i motori a combustione interna quindi dire dieci anni adesso ma forse bisognebbe avere una sfera di cristallo dire che avvierà più velocemente di quello che abbiamo vissuto nel passato ne sono convinta anche perché su certe tecnologie che non centrano assolutamente con l'auto abbiamo visto gli stessi paesi passare direttamente al telefono cellulare quindi ho preso un esempio molto molto estremo per dire che credo che ci sarà una spinta globale più rapida di quello che abbiamo vissuto molto bene allora torniamo un attimo al tema dell'elettrico e del panorama attuale e chiederei a Roberto Boni e anche a Silvia Verace di farci un quadro del tema rifornimento oggi prima ho citato il discorso della sindrome di rifornimento di fatto la gente si pone questo problema questa vettura mi porterà fino là questa rete distributiva di energia sarà disponibile dove mi sto recando è un altro dei temi fondamentali del dibattito intorno alla critica che si fa oltre questo naturalmente non tiene conto ma magari lo affrontiamo dopo del cambiamento anche di mentalità un argomento che nella mostra abbiamo affrontato abbastanza che dovrà avvenire è una richiesta che deve essere accolta dal consumatore così come quando è sceso dal cavallo ed è salito sulla macchina a vapore ha rinunciato a delle cose ne ha aggiunte delle altre e poi col motore anche viaggiare in elettrico presuppone un cambiamento di mentalità qualche rinuncia a fin di bene speriamo e grandi vantaggi sul lungo periodo dico bene Roberto ma allora sicuramente hai ragione nel dire che l'elettrico l'approccio all'elettrico richiede un cambio di mentalità perché se tu ti approcci appunto all'auto elettrica pensando di usarla to-cour come quella benzina sbagli in partenza non fosse altro per il fatto che come dico io mentre l'auto termica tradizionale di fatto ha solo una barriera economica per l'acquisto che poi si può risolvere comprando le automobili usate più o meno anziane e così via ma poi al di là di certe situazioni confinate tipo qualcuno che vive in pieno centro senza possibilità neanche di parcheggiare sotto casa tutti gli altri bene o male una volta che hanno i soldi per comprare la macchina la piazzano da qualche parte la usano con soddisfazione l'elettrico invece a meno di sacrifici che magari qualcuno fa anche di buon grado ma la maggior parte delle persone naturalmente se ne guardano bene ha bisogno di una precondizione cioè un luogo dove tu lo puoi caricare tranquillamente a casa o in ufficio diciamo dove la macchina sta ferma per la maggior parte del suo tempo perché anche lì è già un ribaltare le cose mentre tu con la macchina tradizionale ti devi ricordare in qualche modo te lo segnala la strumentazione andare a far benzino o gasolio e risolvi la pratica in pochi minuti non è un problema e trovi benzino o gasolio ovunque o quasi l'auto elettrica questa cosa che devi andare a cercare la colonia lo fai sostanzialmente nei lunghi viaggi se hai le condizioni al contorno ovvero se tu hai il tuo bel garage con la tua hall box eccetera 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 la sera quando torni a casa magari neanche tutte le sere l'attacchi sta durante la notte e si ricarica la mattina è bella piena e anche con la macchina più dall'autonomia più sfortunata hai almeno un centinaio di chilometri nelle condizioni peggiori per andare in giro tutto il giorno e se tu non sei una persona che fa strada per lavoro ma sei le normali commissioni tutti i giorni il 90% degli utilizzatori sono assolutamente soddisfatti il problema si pone se vogliamo quando viaggi nei lunghi viaggi allora lì devi cambiare la mentalità però non è un grande sforzo mangiare un panino o fare due telefonate o rilassarsi un momento mentre nei 20 minuti fatidici la colonnina di grande potenza mi porta all'80% o sbaglio? sì ma no nel senso quello lì è anche una sensibilità individuale e lì bisogna anche ognuno di uno deve fare l'esame di coscienza ci sono quelli che sono più predisposti più che accettano più volentieri anche la sfida prima pranzo parlavamo con Inger Morello dice lui ha già una storia ovviamente di termiche perché lui è un grande progettista lo sappiamo ma ha posseduto e possiede vetture ibride anche plug-in e adesso dice voglio passare all'elettrico perché mi piace la sfida capire studiarve e allora per molti a prescindere dalle istanze diciamo di protezione dell'ambiente ecologia e quant'altro interessa e io che sono lo ammetto un boomer pistonaro come ho letto in un commento su un forum perché ci sono anche le partigianerie adesso per cui quelli assolutamente pro elettrico quelli assolutamente contro l'elettrico quelli pro benzina contro la benzina e quindi io faccio parte per età e per storia tra i boomer pistonari però siccome sono curioso mi diverte anche se non mi piace il motore elettrico perché mi dà emozione però mi piace la tecnica e allora mi piace imparare e allora studio e cerco anche nel mio piccolo di capire queste cose però ripeto il problema è studiare capire le esigenze e ammettere come dicevi tu un cambiamento un pochettino di sforzo di ciascuno Silvia Meraci cosa aggiunge a questa questa opinione ma allora io penso che il cambiamento spaventa sempre tutti proprio insito nell'essere umano questa sorta di resistenza alle cose che cambiano quindi diciamo che in qualche modo dal punto di vista industriale il settore è abituato a questo tipo di approccio all'inizio io credo che quello che noi stiamo costruendo adesso di cui stiamo parlando adesso ci stiamo rivolgendo alle nuove generazioni ai ragazzi che probabilmente tutto questo quello che noi stiamo vivendo lo assorbiranno già da bambini e quindi non avranno neanche non si borranno più il problema anche quei 20 minuti e pistonari non lo saranno mai perché non sanno nemmeno come è fatto un pistone esatto sì infatti d'altro canto dal punto di vista delle infrastrutture io porto diciamo questo punto di vista oggi penso che ci sia molto lavoro da fare nel senso che sicuramente bisogna risolvere abbattere questa barriera che riguarda proprio la disponibilità la possibilità di rendere il veicolo elettrico fruibile a tutti accessibile a tutti tanto per cominciare offrendo la possibilità di ricaricare preferibilmente sul suolo pubblico cioè immaginandoci che non è una condizione possibile quella di costringere non solo a cambiare l'auto la tecnologia dell'auto ma anche a dotarsi di un sistema per ricaricare quello che noi pensiamo è che in un'ottica di elettrificazione dei consumi che riguarderà appunto tutti i consumi non solo i trasporti e la mobilità le città insieme alle grandi aziende dovranno offrire la possibilità a tutti di poter accedere a questo tipo di cambiamento in particolare come noi crediamo anche che la ricarica ultra fast che è un'opportunità non è l'unica necessità nel senso che i dati ci dicono che le auto stanno parcheggiate il 90-95% della loro vita utile che quelle che si muovono in città non fanno più di 20 km allora forse pensare di realizzare ogni 500 metri una infrastruttura ultra fast che ha bisogno di 200 kW di potenza è un sovradimensionamento quello che noi pensiamo che invece sia molto più opportuno soprattutto per quanto riguarda la ricarica urbana quello di dotare infrastrutture a bassa potenza lente anche a basso impatto energetico proprio perché comunque abbiamo una rete infrastrutturale di distribuzione che deve adeguarsi a questa nuova domanda di energia ci vorrà tempo per questo dotando la sosta di stalli di ricarica dotati di punti di ricarica a bassa potenza questa è la nostra vision che stiamo portando avanti nelle città abbiamo sviluppato dei prototipi nelle principali città lombarde presto speriamo di estendere questo modello grazie ti fermo un attimo professore della chiara annuiva in modo evidente non gli chiederei di confermare questa cosa ma di però toccare entrare inizia a toccare un altro tema sul perché tutto quello che stiamo dicendo ha un senso se questa energia elettrica che arriva dove lo sapremo lo vedremo a bassa potenza media potenza ad alta potenza in una casa non importa se questa energia che arriva e che fa muovere tutto quello che stiamo descrivendo è prodotta secondo determinate regole perché se noi produciamo energia elettrica bruciando carbone o petrolio lo sapete meglio di me stiamo girando la frittata e stiamo prendendoci in giro allora professor Dalla Chiara come viene prodotta oggi l'energia elettrica facciamo un focus sull'Italia ecco com'è la torta di produzione e come pensiamo possa evolvere in Italia e poi magari con qualche paragone estero significativo di qui ai prossimi 10 15 20 anni scelga lei grazie intanto grazie per l'occasione di dibattito perché forse si sarebbe potuta fare prima della delibera del Parlamento europeo non qui ovviamente quella delibera parla proprio di questo tema cioè abbattimento del 100% delle emissioni a livello locale ma di CO2 che sappiamo non è solo un problema di inquinamento locale ma di condizionamento della terra in termini di gas serra quindi effettivamente mi aggancio alla delibera del Parlamento e dice abbattete del 100% la CO2 e non producete più quei veicoli dal 2035 in poi però appunto bisogna andare a monte del problema come si produce quell'energia perché l'auto elettrica non ha il tubo di scappamento e quindi il problema è stato spostato da un'altra parte allora arriviamo lì partiamo provo a dare una risposta ma limitatamente all'ambito trasporti che è quello di cui mi occupo partiamo da quanto consumano i trasporti e quanto consuma il trasporto stradale così vediamo se è riversabile altrove allora fatta a 100 la produzione di energia in Italia ma in Europa il valore che sto per dire è lo stesso i trasporti ne consumano un terzo circa 33% e di questo 33% a seconda che si considerano solo i trasporti su terra o tutti il trasporto su strada ne prende tra l'82 83 86 87 fino al 92% comunque un numero che supera sensibilmente 80 e talvolta 90% quindi vuol dire che un terzo dell'energia complessivamente prodotta all'85 90% è usata dal trasporto su strada se quindi noi consideriamo quella delibera e puntiamo a una migrazione completa noi dovremmo riuscire a portare quell'energia lì che è quasi tutta petrolio perché il mondo dei trasporti ha scelto il petrolio più di un secolo fa come abbiamo sentito prima e l'ha tenuto l'ha tenuto contagiando diciamo il trasporto stradale ferroviario laddove non si è elettrificato trasporto aero trasporto marittimo tutti usano il petrolio tant'è che siamo in un regime di quasi monopolio al 93-94% in termini di teptone e l'atequivoriente di petrolio allora vuol dire che quell'energia di cui parlavo prima dovrebbe essere convertita se guardiamo la CO2 a fonti adeguate ad abbatterla quindi o rinnovabili o nucleare non è che abbiamo tante alternative mi chiedeva prima la ripartizione da quello che so sulla produzione energetica complessiva in Italia le rinnovabili arrivano a incidere sul 19% sulla produzione di energia elettrica arrivano a toccare il 39% circa allora che cosa vuol dire? una quota importante viene dall'idroelettrico è vero in questo specifico idroelettrico oltre che ovviamente le altre il solare detto questo se noi vogliamo guardare quell'obiettivo di abbattimento della CO2 dovremmo riuscire a convertire tutta quell'energia di cui parlavamo prima cioè il 90% circa di un terzo della produzione energetica in rinnovabili oppure riaprire il capitolo nucleare questo vuol dire che da 19 noi dovremmo aggiungere qualcosa che assomiglia al 90% di 33 e quindi un 29% ma noi il 19% di rinnovabili l'abbiamo raggiunto in un bel po' di anni possiamo pensare che al 2035 a una data all'intorno arriviamo a quell'altro numero non solo ma il delta sia tutto come dire a vantaggio del mondo dei trasporti perché esistono gli edifici esistono le altre applicazioni dovrebbe dire che tutte le rinnovabili in più vanno ai trasporti e questi vanno diciamo indirizzati sulla rete elettrica per ricaricare le auto questo è un tema se così non sarà è chiaro che bisogna subito aprire un'alternativa che non è che il nucleare mi perdoni chiederei anche all'ingegner Leitner se eventualmente ha voglia di intervenire su questo allora il nucleare è una delle strade tutti sappiamo l'Italia che scelta ha fatto 40 anni fa più o meno però viviamo in un mondo molto diverso da allora fortunatamente di incidenti paragonabili a quello di Chernobyl non ce ne sono più stati abbiamo stretto le incrociato le dita qualche anno fa con Fukushima ma lì c'era veramente era successo qualcosa di imponderabile che tipo di nucleare si può pensare voi non siete degli specialisti però siete degli osservatori attenti la Germania sappiamo che sta a chiuso delle centrali nucleari in questi ultimi due anni le sta chiudendo anche in un momento così difficile e così imprevisto dei fatti degli accadimenti come sarà come potrebbe essere il nucleare che ci dà l'energia per muovere non i 10 milioni di veicoli in Italia che forse potremmo muovere anche con la struttura di oggi perché ci sono degli studi dopo li toccheremo specifici ma quando i veicoli saranno 20 25 milioni il nucleare sarà una delle leve obbligate dalla Chiara e Leitner vogliamo cominci prego lei ingegnere if you start please ok sorry first of all that I speak in English so unfortunately my Italian is not good enough to answer this question properly so I hope you understand me we mostly understand thank you grazie so in general I think the debate if nuclear energy should be used or not everyone I think has his own opinion and every opinion has a has a weight and at the end the countries the European Union and all these organizations need to decide by themselves if they are using or if they betting on the nuclear energy or not and I think this debate cannot be done in an objective way of course in Germany they closed Germany closed the nuclear plants exactly at the time point which was from the out of view the worst time ever nonetheless if you look to the current statistics even though there are huge barriers in Germany with regard to wind wind power and photovoltaics the sustainable energy production grew a lot and also could at least currently and also in winter especially if we look on the wind wind power in the North Sea could compensate the nuclear power plants which have been shut down in Germany but of course we should not forget that if there are peaks in demand there are the huge factories or the huge power plants in France which are still delivering all the energy into the European network so it's a it's not a fair comparison to say okay Germany is nuclear free because at the end also I think in Italy there is it's the same but if we step back a bit and think without borders looking only at the two main sustainable energy sources which we have it's the sun and the wind if we look on the global point of view there is enough wind power and there is enough sun power available to feed the complete energy demand of the earth even two or three times more so again thinking without borders and the main issue as we know is of course electricity how to transport it how to store it and how to move it to the place where the owner of the battery electric vehicle just runs out of battery and there are a lot of initiatives going on for example right now there are solutions available to transport electricity with less than 3% loss over 1000 kilometers so there are possibilities for example to create in huge photovoltaic plants in north or middle Africa and then transport this energy to Europe this is already technology technological possible and also one argument which is very important it's for the I think for the use of a battery electric vehicle or for the use of a vehicle which has right now a combustion engine to transform this into the battery electric vehicle usage of course it's the duty of the industry and the duty of the market to serve the demand and very often we see the battery electric vehicle as the problem because of electricity availability because of price because of range what happens in winter and so on but I think what the main thing is or what the main solution will be is to use even though the battery is a part of the problem but the battery electric vehicle will also be a part of the solution because we should not forget in each of this vehicle we have maybe 50 to 100 kilowatt hour hours of storage capacity we can use in the time where the vehicle is not used for providing energy to the grid for storing energy in the off the grid for providing the energy to your house so it's interesting this use anomal of the automobile we could use hundreds of thousands of stopped vehicles in the streets as in a different way with a different purpose con un different objetivo absolutely for example if you are working in a big company and this company is providing to you a parking lot where there is an energy station you can check in maybe saying you work now for eight hours I want my battery 80% filled at 5pm and what happens in between is the problem of the computer or the grid manager who is taking out maybe the energy of the battery if there is a peak at 12 but then when the consumption is going down again fills your battery and maybe because you know in the night for example you can get energy for free I I am thinking I I am thinking I am computer no all'uso dei computer privati per esempio da parte degli istituti di astrofisica di ricerca spaziale che hanno chiesto alla gente di lasciare il computer acceso e li hanno usati in anni diversi da forse un po di tempo fa per ampliare la capacità di calcolo per arrivare a degli studi di astrofisica molto complessi e quindi è molto interessante quello che dice l'ingegnere sostanzialmente il problema non è tanto nel produrre energia in un modo o nell'altro perché col sole e con il lo traduco molto velocemente per chi per caso ha perso un pezzo col sole o con il vento noi potremmo dare da mangiare alla terra due o tre volte si tratta solo di farlo di iniziare a farlo seriamente e di farlo bene volevo chiedere a Roberto Boni scusami Roberto c'è uno studio di un istituto ricerca che ha detto pochi mesi fa che se avessimo 7-8 milioni di veicoli elettrici in questo momento in Italia la rete reggerebbe alla grande sì si tratta di uno studio del DRSE che è un istituto che dipende dal ministero dell'industria e sostanzialmente cita questo fatto che l'aumento di energia richiesto in caso addirittura di 10 milioni di vetture elettriche o plug-in quindi ricaricabili circolanti in Italia quindi circa un quarto del parco circolante avrebbe un impatto del 5% soltanto sulla richiesta di energia e sostanzialmente questi ricercatori sostengono che questa cosa non comporterebbe l'aumento di centrali la costruzione di nuove centrali di produzione ma si tratterebbe solo di sfruttare già la capacità installata esistente poi però attenzione che una cosa è il discorso di produzione dell'energia a monte che poi come abbiamo detto dovrebbe essere per essere efficace dal punto di vista dell'abbattimento delle emissioni di energia rinnovabile cose che attualmente è solo in parte ma poi c'è anche un collo di bottiglia nella distribuzione che è quello che diceva Leitner cioè il problema è portare l'energia è molto più difficile quello che lui ha citato è quello che sarà il futuro cioè il vehicle to grid o il vehicle to home cioè il fatto che la macchina fa da accumulatore che scambia energia in entrambe le direzioni non solo l'accetta dalla rete ma la può cedere sia per diciamo bilanciare i picchi sia per alimentare eventualmente le case ma oggi oggi con la situazione attuale diciamo con la vecchia tecnologia ci serve un problema locale a livello di trasformatori proprio di distribuzione locali da media a bassa tensione che se tutti arriviamo a casa alle 6 di sera e attacchiamo la nostra macchina elettrica alla nostra wallbox o anche alle future colonnine a bassa potenza così ci potrebbe essere il sovraccarico dei trasformatori locali anni fa parlando con il responsabile tecnico dell'Audi mi raccontava come dalle parti di Ingolstadt è avvenuto quel problemino perché tutte le vetture dei dirigenti dei tecnici così che chiaramente si attaccavano alla stessa ora mentre invece col futuro le reti intelligenti si potrà ripartire i carichi durante la notte però abbiamo sentito questo è un aspetto molto importante abbiamo sentito che invece la diffusione il trasporto di energia di grandi potenze di grandi quantità di energia per esempio dal Nord Africa per esempio ipotizziamo i campi solari che si stanno progettando nei deserti dell'Arabia non lo sappiamo ormai non è un segreto per nessuno i cavi gli strumenti per trasportare questa energia ci sono fanno parte di una tecnologia nota si tratta di costruirla di applicarla e di investire del denaro allora sono le 6 e 10 e abbiamo iniziato abbiamo fatto un antipasto perché qui l'argomento potrebbe andare avanti a lungo anche soltanto su questo dobbiamo iniziare a parlare di batterie le batterie sono l'altro argomento caldissimo di questa questione e io vorrei non mi fa disperare signori della regia datemene uno che funzioni allora ecco vorrei che il professor Dalla Chiara e l'ingegner Leitner dividiamo le risposte ci facessero un quadro della produzione delle batterie oggi cioè chi le fa quali sono le posizioni dominanti i grandi giochi di potere per lo sfruttamento delle materie preziose il tutto incrociato con la politica e la geopolitica insomma anche qui una serata non basterebbe ma questi sono i temi che i critici portano allora iniziamo dalla Chiara o no iniziamo dall'ingegner Leitner ecco qual è la fotografia chi fa le batterie oggi come se dovesse spiegarlo a suo figlio ok che è che è che è che è che è chi fa le batterie quindi faccio io credo se stelantis for example, of course Stellantis is building their batteries they use for the cars they sell by their own because of course by removing the combustion engine of the powertrain also let's say the value creation and the value chain needs to be at the end to a certain part at the OEM and as the battery, I don't want to speak for you but as the battery is a big part of the car, it's still mainly belonging at the OEM site and looking at the global situation, most of the OEMs are producing the batteries by themselves which does not mean that they have the complete value chain so of course I don't know at the end any OEM who is producing the cells by himself so the cell is a real, I would say nearly 100% part of a supplier which is right now a very dominant market so to get cells for battery electric vehicle is more, let's say, selling situation than a buying situation so the sellers of the battery cells have sometimes even more power than the buyer of the batteries and I think this will, with this steep gradient, will still remain a few years like that, unfortunately of course and also this market is very, very dominated by Chinese and Korean companies this is what I was waiting for they started very, very early by transiting, by really transiting the whole industry to electrification and of course we see this also now if we, I was living from 2008 to 2012 in China when I worked there it was really a very, very strong move and of course for China it's a bit more easy they are not so slow in decisions or they are much faster in decisions as Europe is they could transform the energy, the transformation of the industry very, very fast and when I was there in 2010, in this timeframe the Chinese cars were still, let's say, considered as medium to low level, very low quality a lot of things they copied from the European cars so it was not considered as a real competition for the established European and North American car manufacturers but with the electrification, they started to really get independent and started to get strong on technology as well and if we look right now, what you also read in the press what the issues of the German manufacturers are on the Chinese market that they hardly can sell the battery electric vehicles in China because the Chinese cars became so strong and I really must admit, if you look now to a BYD or to a Geely Beth these are real good cars this is not the underdog who is trying to sell cheap crap as it was, let's say, considered a few years ago right now these cars, and they will enter the European market, are a real competition coming to raw materials where do they come from? da dove vengono le materie prime che i cinesi in gran parte e altri ovviamente poi anche utilizzano e questo è un altro dei temi localizzazione delle materie prime ce la descriva of course this topic is getting a bit into politics and I'm not a politician so I can only answer this question as an engineer so of course most of the raw materials, lithium and so on are coming on the developed, not developed countries so Africa for example, and countries like this and we know that the Chinese companies and the government started very early to secure their shares on that and with that now, and with the large scale production of battery cell I would say they are in a dominant position and we will see how far we can catch up here we know there are several European companies who also start to develop battery cells and so on but this will take time and it will not be that fast to really catch up so fast here this is the picture right now la situazione attuale è questa ce l'ha detta molto chiaramente sul futuro chiederemo alla dottoressa Lisbona tra pochissimo cosa succederà perché anche qui cambiano le materie cambia lo scenario, cambia la geopolitica ma Bruno Dallachiara volevi intervenire un momento grazie si provo a dare una chiave di lettura un po' più generale quale di policy dei trasporti allora penso che siamo tutti consapevoli che nel novecento soprattutto la seconda metà del novecento la costruzione dell'auto è stata l'industria dell'industria ma se guardiamo anche alla fine degli anni del novecento anni ottanta anni novanta mi ricordo su 24 ore pubblicavano la lista delle prime dieci società al mondo per fatturato e tra queste 4, 5, 6 erano aziende di produzione estrazione e produzione di derivati da petrolio d'accordo? quindi nelle prime società e altre erano industria automotive cosa vuol dire? che dai tempi di Lawrence d'Arabia in poi il petrolio è diventato l'elemento principale della catena mondiale economica in termini di energia e produzione di un mezzo che serviva per far rispostare le persone nel 2003 da quello che so la Cina non so forse per contrastare questa economia globale investe dal 2003 in poi in estrazioni minerali, miniere e quant'altro il cobalto da quello che so al 90% in Congo e le miniere sono per lo più cinesi il litio è un po' più diffuso ma ci sono altri materiali che sono molto concentrati in Africa e la Cina ha un dominio pressoché assoluto sulla estrazione di questi minerali quindi quello che si configura è un'alternativa a quella grossa economia del petrolio basata invece su minerali alcune miniere e lo specifico dell'Africa sono in mano alla Wagner come merce di scambio per l'aiuto di colpi di Stato e quant'altro detto questo è chiaro che si innesta un'economia diversa per far spostare le persone che deve essere basata su questi minerali per poi questo corrisponde a più un'esigenza dell'offerta che non alla domanda di mobilità motorizzata magari dopo ne parliamo però è questo secondo me il messaggio da chiarire quindi tutto questo ci porta a dire già che l'Europa è stata dominante nella produzione di autoveicoli già che la Cina intravede o ha percorso quella strada su cui a un certo punto vorrà un ritorno dell'investimento noi vogliamo assecondarci a quella logica o vogliamo portare avanti una logica europea in cui siamo capaci di fare perché sapere potere ma anche saper fare potere e quindi in questo contesto dobbiamo decidere dove collocarci e a tuo giudizio questo spazio di manovra esisterebbe? secondo me sì però poi ne parliamo Dottoressa Lisbona ha ascoltato interessante questa fotografia come è fatto il reparto batterie di Stellantis? è una specie di spectre dove circolano segreti preziosissimi come vengono prodotte le batterie all'interno del vostro gruppo? ci dia qualche cenno beh è un team di persone molto normali cominciamo da questo beh io mi riallaccio un po' ai temi citati perché effettivamente Stellantis ha lavorato molto per istituire una serie di partnership a livello mondiale perché vorrei ricordare che Stellantis è un'azienda globale quindi il reparto batterie in realtà è distribuito in tutto il mondo e lavoriamo in network perché il tema comunque della standardizzazione per una grossa industria è fondamentale visto il costo del componente quindi la strategia di Stellantis è stata il setup di una serie di partnership con formatori di materie prime con aziende che producono celle e moduli e poi abbiamo vissuto come dicevo prima la verticalizzazione del prodotto cioè la batteria viene progettata e costruita in Stellantis reparto di persone normalissime niente di che certo è stata una grande trasformazione tecnologica che abbiamo vissuto noi tecnici dell'azienda perché come dicevamo forse una prima generazione di vetture elettriche si è basata su batterie acquistate esternamente e poi da subito la scelta è stata di sviluppare internamente il know-how e adesso siamo arrivati a costruire le batterie dei nostri veicoli sicuramente per riallacciarmi ai discorsi di prima le partnership, l'importanza di essere anche nelle nuove tecnologie di cui abbiamo fatto annunci recentemente anche batterie agli ioni di sodio, il solid state stiamo tenendo aperti tutti i canali perché anche come dicevo prima la ricerca in questo ambito sta correndo veramente molto veloce quindi partnership con aziende e anche lavori con l'università, con i Politecnici la velocità a cui la ricerca e la tecnologia si muovono che voi ricordate spesso ci può far immaginare che di qui al 2000 stiamo sul 2035 che è questa fatidica data delle istituzioni ecco ma le batterie saranno molto diverse da quelle che vengono prodotte oggi non solo per prestazioni e peso ovviamente tutti lo speriamo ma anche per i materiali che utilizzano per il modo in cui li utilizzano sì decisamente sì anche perché cominciamo da una cosa molto più semplice senza addentrarci nella complessità della chimica il peso della batteria ha rivoluzionato un po' diciamo il veicolo togliere un motore un cambio e mettere un propulsion elettrico di cui la batteria è la parte più pesante e vuol dire comunque portare in giro un peso importante quindi il tema del peso della batteria è la priorità uno parlo come tecnico poi ovviamente come tecnico c'è anche il tema del costo ci mancherebbe ma le due cose sono in qualche modo correlate sono correlate o non necessariamente no, sono correlate diciamo col punto di contatto che tutto quello che è la chimica della cella la densità di storage nella batteria lo vediamo aumentare migliorare molto rapidamente quindi 2035 veramente credo che nel 2035 forse parliamo già di una terza generazione rispetto a oggi alla velocità con cui stiamo andando quindi sì penso che il tema costo il tema peso il tema perché poi l'idea di fare una grande batteria per avere tanta energia a bordo se poi il tema del peso non è risolto ma preferisco lavorare con chi si occupa di velocità di ricarica piuttosto che incrementare così tanto il peso del veicolo sono tanti pezzi di un puzzle molto complesso che stanno cambiando tutti 2035 sarà qualcosa radicalmente diverso da cosa abbiamo oggi queste sono risposte molto importanti perché tolgono argomentazioni anche alla critica voi leggete e ascoltate molte delle critiche che vengono poste all'elettrico oggi ecco dobbiamo metterci in un'ottica di grande cambiamento sul medio termine non sul lungo perché il 2035 ormai è un medio termine ecco quindi più piccole più leggere più economiche possiamo dire che sono le parole magiche di questa ricerca che aprirà l'elettrico anche a una parte del mondo che oggi non può permetterselo sentiamo dall'ingegner Leidner per favore mi ricordo l'ingegner Tavares dire proprio smaller, lighter, cheaper no actually yes of course the design of the battery and I can only fully agree to the third generation in 2035 and I would say in addition to that of course the capability of fast charging will improve a lot so we think that of course right now it's already technically possible but of course still for the mass too expensive that 100 km per minute charging speed is technically possible and will be available in 10-15 years in addition to that even though the let's say the if you look at the statistics we see very often in the news that the battery vehicles are burning down because of thermal events even though the statistic says very clearly that the events are much less than cars with combustion engines of course this is a very important part of our research and development to develop batteries which are really 100% safe where let's say in the next generation right now we have targets of time in the next generation of batteries we expect that they will be no flame out so there will be even though there is a thermal event in the battery the battery is covered and safe that there is no detonation or even a flame going out and then the third generation will avoid even that if there is a cell having a thermal event that it's not going to be through a thermal runaway so the cell is already protected that if one cell is failing it does not infect all the other cells I think this is also a major part of our future development to really make the batteries 100% safe at the end Anche queste considerazioni sono molto importanti pensiamo a come è diventato affidabile lo stesso motore termico lo stesso sistema di alimentazione di un motore termico pensiamo alle auto per esempio da corsa ai rischi a cui erano esposti i piloti se voi visitate il nostro museo ecco potete viaggiare nel tempo entrare nella macchina di Manuel Fangio nella Mercedes di Fangio o nella Ferrari di Bandini o nell'Alfa di Nuvolari ecco erano degli uomini esposti a dei rischi spaventosi e anche lì la ricerca applicata alle corse oggi ha portato le vetture di formula a compiere delle carambole degli incidenti addirittura incredibili e a far uscire vivo l'occupante ecco volevo chiamare una domanda ancora alla dottoressa Lisbona questa strada che lei ha delineato di vetture più quindi di batterie che sono oggi possiamo dire insomma il cuore dal punto di vista della ricerca del veicolo perché tutto il resto lo conosciamo meglio e più appunto e più o almeno ci sembra che sia così ecco andiamo verso una world car elettrica per esempio di Stellantis voi state pensando a una vettura che possa essere venduta una vettura elettrica che possa incontrare la borsa di paesi se non proprio sottosviluppati ma che hanno una 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 capacità di spesa e di investimento più ridotta un modello un po' come la tipo non lo so oggi o è stata sono state altre vetture che potremmo immaginare vendute col vostro marchio in tanti continenti diversi ma assolutamente sì perché quella tecnologia ha bisogno dell'economia di scala e quindi è una scelta necessaria dovuta e poi comunque Stellantis per esempio in questi giorni ha annunciato la piattaforma Stella Large che nasce per essere globale nasce per essere prodotta in più di un continente adesso qui stiamo parlando di segmenti di E ma poi lo stesso approccio è anche per altre piattaforme e quindi il prodotto elettrico nasce per essere nasce per essere globale ripeto sia per un'economia di scala per un tema di costi sia proprio insomma è un po' anche il DNA di Stellantis quindi sì stiamo lavorando per quello e ci saranno world car diciamo in tutti i segmenti con batterie e motori elettrici assolutamente sì non so adesso anche questa domanda anche l'ingegnere Leitner o a Boni chi se la sente voi sapete che in molte città dell'Asia le grandi metropoli dell'Asia non si gira in automobile si gira in bicicletta su uno scooter sull'ape piaggio e su questi mini van che sono l'infrastruttura di trasporto pubblico più popolare questi furgoncini di privati padroncini che fanno un servizio ecco sentivo proprio su un dibattito organizzato da voi che questi mini van sono un enorme bacino non solo di affari ma anche di riduzione lì siamo più in un campo certo le emissioni sono importanti ma l'inquinamento di sostanze tossiche non necessariamente serra è gravissimo voi sapete leggete cosa succede a Nuova Deli o a Pechino quando non tira vento ecco anche questi mini van dovrebbero essere elettrificati o resi possibili Leitner vedremo questi furgoncini colorati che abbiamo apprezzato in tante città mossi da motori eco free quindi so And you know this, especially in India, these auto rickshaws are an extremely mass product, so they not produce 100,000 or something. We talk here about maybe millions per year. And so the cost of these vehicles is so low that currently it's not even possible to think about to produce this with an electric powertrain in the same cost area. And of course countries like India are extremely cost sensitive. But also if you look to India especially, India is now really going very strong towards ethanol, sustainable fuel, and they're already the first projects are running to convert the powertrains, the conventional combustion engines, to usage flex fuel, to use also ethanol. And it seems that on the passenger car area, India is going more towards this direction, which is of course good for the CO2, but does not help a lot on the particulates and also on the NOx emissions. So at the end, I don't see for this application right now a solution which will be on the market, in the mass market in short term, unfortunately. Parliamo dell'India e di altri scenari simili, il problema della grid, della rete elettrica non solo produttiva ma anche distributiva diventa ancora più cruciale ed è davvero impensabile oggi di immaginare delle vendite nelle aree non urbane, non immediatamente pertinenti alle motropoli, di milioni di veicoli elettrici. Il problema strutturale è ancora molto sensibile e più ci si allontana dal centro del mondo occidentale più lo si sente. Volevo da Silvia Verace una riflessione, abbiamo parlato di come potrebbero essere le batterie e i progetti di veicoli di cui ha 10-12 anni. La rete, le colonnine, che ricerca state facendo voi per rendere più efficienti, più economiche anche quelle domestiche che sono comunque una strada? Qualcuno lo ha sottolineato insomma perché il veicolo sta tanto tempo fermo a casa. Come cambieranno i vostri prodotti? In linea con quello che dicevo prima, il lavoro di A2A è quello di cercare di produrre o comunque mettere a sistema delle infrastrutture che siano efficienti. efficienti sotto tutti i punti di vista, quindi energetici ma anche e soprattutto di spazio volume occupato. Nel senso che noi dobbiamo pensare proprio in un'ottica di rivoluzione della mobilità urbana e periurbana che come appunto diciamo in premessa il numero di veicoli sicuramente diminuirà, quindi ci si sposterà su altri modi di trasporto soprattutto nei contesti urbani più sostenibili magari anche, quindi la micromobilità, il trasporto pubblico. In questo ecosistema il trasporto privato su gomma sarà adattato ai nuovi usi. Dal punto di vista dell'infrastruttura noi abbiamo sviluppato un prototipo con Giugiaro che conoscete immagino tutti benissimo proprio perché pensiamo che dal punto di vista del design, quindi non dobbiamo solo produrre un oggetto che sia funzionale ma anche curando l'aspetto del design che riteniamo essere fondamentale soprattutto in un'ottica di espansione ed estensione. E' quasi un arredo urbano il vostro. Esatto, infatti proprio questo è il punto, nel senso che nel momento in cui noi pensiamo che entro i prossimi sette anni perché il 2030 è l'orizzonte temporale del PNIEC che è dopodomani, andremo a triplicare il numero di infrastrutture di ricarica su suolo pubblico questo numero significherà avere centinaia di oggetti distribuiti nelle nostre città. Questi oggetti devono coesistere con tutta una serie di altre funzioni e infrastrutture. Per triplicare lei ha detto in quanto tempo? Beh al 2030 ci saranno circa 150.000 punti di ricarica, oggi sono circa 50.000 contando un po' tutto. Certo. Allora, qualcun altro vuole intervenire su questo? Della Chiara, prego. Sì, secondo me bisogna focalizzare un po' più l'attenzione sull'analisi della domanda di mobilità motorizzata. Cioè come si muove e se quel tipo di ricarica di veicolo corrisponde a... Allora, grosso modo ogni automobilista italiano percorre circa 35 chilometri al giorno in media annuale, 12.500 all'anno. Ma la distribuzione è iperbolica, cioè vuol dire che sono spostamenti brevi molto frequenti e spostamenti lunghi evidentemente meno frequenti. E questo deriva anche dal fatto che tre persone su quattro in Italia, così come in Europa, abitano in città. Quindi lì espletano la loro mobilità motorizzata quotidiana per 4, 5, 6 giorni alla settimana. Allora, tornando alla domanda iniziale, qual è il rendimento complessivo dell'uso del motore termico in città e fuori città? Allora, in città il motore termico ha dei rendimenti che possono anche assomigliare a 16, 18, 20%. In virtù delle code, della ricerca del parcheggio, dei semafori, del traffico. Ma fuori città il motore termico può superare abbondantemente il 30%. In realtà supera anche il 40, 45% ma come motore. Poi se lo inseriamo nell'auto c'è la catena energetica complessiva ma possiamo arrivare a un 36, 37%. Che cosa voglio dire? Che in questa forbice che va da 18 a 37, l'elettrico nella catena energetica complessiva non è detto che vince. Vince sicuramente in città ma fuori città se guardiamo l'approvvigionamento dell'energia. Se pensiamo oggi a una produzione in ciclo combinato, siamo a un 45%, togliamo un 6-7% di distribuzione della corrente elettrica, togliamo il rendimento della ricarica della batteria, togliamo l'aspetto invecchiamento sulla batteria, togliamo il rendimento del motore elettrico che è 89, 90, 92% e stiamo sotto al valore più alto del rendimento del termico. Che cosa voglio dire? Che se accoppiamo la domanda di mobilità con il rendimento del motore termico, vediamo che la risposta energetica, ambientale e di abbattimento delle emissioni locali, che sono quelle che fanno male alla salute, sta nel muoversi in elettrico in città. Allora questo fa abbastanza coppia con quello che veniva detto prima. Cioè se noi diamo la possibilità di ricaricare in città per i percorsi tipicamente urbani, ma fuori città, nella catena energetica complessiva, nella libertà di movimento, non solo nella range anxiety ma recharge anxiety, l'elettrico non vince nella catena energetica complessiva. La libertà di movimento dà spazio al termico e quello che potrebbe essere una soluzione vincente, che quindi si riaggancia alla domanda di prima, è lasciamo una trazione elettrica in città e una termica fuori città, con le varie possibilità che ci sono, considerando che le matrici origini e destinazioni attuali non sono più tutte auto, 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 ma il mondo dei trasporti si sta dirigendo verso una mobilità più flessibile, gerarchica, dove si usano le varie modalità di trasporto in logica massa per le loro prerogative. Quindi lasciamo in città la trazione pura elettrica, fuori città il termico con le varie alternative e forse rispondiamo meglio alla domanda non creandoci con la dipendenza di cui parlavamo prima. Certo, le domande le facciamo a fine chiacchierata, scusate. Quando lei parla di fuori città parla di un utilizzo del veicolo fuori città o parla di una comunità residente fuori città che gode di servizi diversi, vive in un contesto completamente diverso, fa un uso del veicolo assai diverso, solo per chiarire meglio. Sì, allora ho parlato di città proprio perché molte persone vivono in città e perché la direttiva, la 50-2008, che obbliga le amministrazioni locali a intervenire nel caso di superamento di determinate soglie di concentrazione di inquinanti riguarda proprio dove le persone abitano di più le città. Allora dico, se quello è il problema, perché il Parlamento europeo parla di CO2, ma ovviamente bisogna parlare delle emissioni locali, se quello è il problema, gli spostamenti urbani, e accoppio questo col fatto che 100 città europee hanno dichiarato l'obiettivo, forse un po' libro dei sogni, ma almeno ci provano, al 2030 di Carbon Neutrality, tra cui c'è Torino, allora si può dire, facciamo dei geofencing urbani e lì dentro, che io arrivi da fuori o vive in città, posso spingere gradatamente perché ci si muova in trazione elettrica. Allora questo sì che fa coppia con una diffusione di possibilità di ricariche, già che solo un italiano su cinque, grosso modo, ha potenzialmente la possibilità di avere un parcheggio e quindi la postazione privata. Detto questo, fuori città, per le ragioni che citavo prima, che sia una persona che dalla città va fuori, la persona che vive fuori, secondo me non c'è la motivazione, ma penso a un elenco di motivi che vanno dal fatto che per ricaricare ci vuole una coincidenza spazio-temporale sulla possibilità di ricarica, cioè ci vuole un veicolo, una persona, un booster per poter ricaricare la batteria, mentre invece per il rifornimento chiunque è in grado di prendere una bottiglia e mettere il liquido in caso di necessità. Allora in città questo si risolve perché la città è fatta così, ma fuori città non so se valga la pena equipaggiare tutto per dare questa libertà di movimento che l'auto si è portata dietro nei decenni, a quali costi, a quali condizioni e non necessariamente vincendo la battaglia sul rendimento di cui parlavo prima e tantomeno andando a intaccare un problema di emissioni inquinanti, concentrazioni che non è ravvisato. Le emissioni inquinanti sicuramente no, però i gas serra si raccolgono sia in città che fuori in città. Allora certamente se noi continuiamo ad avere in mente, a proposito di cambiamenti di atteggiamento in mentalità, un modello autocentrico in cui l'automobile è stata, come per gran parte del Novecento, non solo veramente uno strumento di grande riscatto, di libertà, di svago, lo sappiamo quante volte abbiamo detto, no? L'automobile del Novecento è stata veramente una leva strepitosa. Ma il Novecento è finito da 23 anni, cari signori, e ci sono dei paesi e degli osservatori che dicono forse i nostri modelli di sviluppo e di vita evolveranno, anche perché nel frattempo sono successe tante cose, forse nelle città più che nelle campagne. L'Italia è un paese molto complesso da un punto di vista del panorama di servizi, di spostamento, però è anche vero che la campagna non può essere certamente tenuta fuori da un cambiamento di mentalità. Se la macchina a combustione interna deve ridurre il suo impatto, dovremo andare meno in macchina, anche in campagna dovranno andare meno in macchina. Il che però vuol dire fornire delle valide alternative, altrimenti non possiamo chiedere alle persone di rinunciare. Però una riduzione del traffico privato. In campagna a certe volte la macchina è necessaria perché per arrivare a una stazione di un treno o di un pullman o di un servizio bisogna fare comunque un tratto in macchina, ma non è necessario andare fino alla destinazione se c'è una valida alternativa. Io penso che in questo rimmaginare il modello autocentrico molto passi attraverso i servizi che verranno dati alle zone non urbane, perché a Milano è molto facile non usare la macchina, scusate, abbiamo cinque linee di metropolitana, più passante sotto casa, chiunque stia nella zona servita la macchina se la dimentica. Già a Torino è un po' diverso, perché se volete andare da qui a Corso Reggio Paco ci potete mettere un'ora con i mezzi pubblici, ci ho provato io più di una volta. Quindi il discorso delle strutture del servizio pubblico è fondamentale per immaginare un nuovo mondo. Non a caso anche nella mostra abbiamo fatto proprio un distinguo città-campagna, urban-rural, bisogna mettersi nei panni di chi vive in un certo posto, altrimenti tutto sembra facile oggi, ma questo non giustifica che bisogna fare comunque uno sforzo di mentalità e bisogna fare delle scelte politiche forti, perché è certo che se continuiamo a togliere le linee regionali dei treni, a far ruotare tutto su gomma, non funziona, non si va da nessuna parte. Qualcuno ha qualcosa da dire su questo, sul rapporto città-campagna-ingegner Leitner per esempio, tra l'altro ci sono anche dei paradossi, perché spesso in campagna la gente ha un posto dove rifornire la vettura di notte, perché non bisogna avere un box che costa 100.000 euro, basta avere una presa, una prolunga e metterla in giardino. Ecco, non è vero che la campagna sia così lontana dall'elettrico. Come back to the statement from inner city and outer city, there is one aspect which maybe is not really right now in the focus, but it seems that for synthetic fuel, the aerospace industry, so the airplane industry, will be one of the first applications for synthetic fuels, because actually you cannot electrify an intercontinental airplane, at least not now. Airbus is trying to start the first experiments, I read it yesterday. Stanno usando l'A380 per fare degli esperimenti con un motore a combustione di idrogeno diretta. But nonetheless, right now, the main stream is to produce synthetic kerosene in a large scale to actually be able to replace the fuel without major changes on the airplane. And if we look on such a production in large scale, of course, if we look at the current available technology, we have the Fischer-Dropsch process, where out of this synthetic fuel, there is 30% kerosene, but also 30% diesel. So if we start producing kerosene for the aviation industry, we will have per litre kerosene, also one litre diesel available, which is, if the electricity is coming from the right source, 100% CO2 neutral. So the aspect to use outside of the city, maybe even in agriculture business, still the diesel, but the right diesel, will be, I think, in the future, a big potential, because with the kerosene production, there will be also a lot of diesel left. We have done a little bit laterale, we have started to touch the theme of the other transport. The engineer Leiter talked about aviation, but of course, you know, it is another one of the big polluters, and there is no new carbole, if you can't have an electric car, you can't have an electric car, if you can't have an electric car, you can't have more container, you can have a different way to find it. And the new carbole seem to have an electric car, it seems to be an electric carbole, which is absolutely not negotiable. In aeronautica lo dicevamo un aeroplano fino a circa 50 posti di capienza è ipotizzabile con una trazione elettrica a celle di carburante, ad oggi ci sono dei costruttori che si sono molto esposti in questo senso, oltre i 50 posti, quindi al di là dell'aeroplano regionale che fa le corte tratte è tutto da giocarsi, sembra di parlare di qualcosa di ancora fantascientifico. Adesso è venuta fuori questa notizia che forse avete detto, che sul gigante dei cieli stanno provando a montare una turbina che brucerà idrogeno, è un aeroplano immenso che può ospitare un laboratorio di ricerca volante, l'unico che può farlo, più i serbatoi necessari all'idrogeno per far funzionare la quinta turbina dell'aereo in questo caso, vedremo che cosa succede, ma stiamo muovendo veramente i primi passi. Quindi anche, come diceva l'ingegner Leider, l'e-fuel nell'aeronautica sarà probabilmente la strada obbligata, anche perché le previsioni parlano di un raddoppio del traffico aereo di qui al 2035, il trasporto aereo è già passato da 350 milioni di viaggiatori a 6 miliardi di viaggiatori oggi, dagli anni 70 a oggi, 350 milioni di viaggiatori negli anni 60, 6 miliardi di viaggiatori oggi, questo per darvi qualche cifra di riferimento, il problema è enorme e quindi va affrontato in modo urgente. Allora, volevo chiedere dalla Chiara un momento, dell'idrogeno non abbiamo parlato perché è un grande tema che meriterebbe, però io volevo che lei facesse chiarezza su un argomento che mi aveva colpito, cioè l'efficienza del motore elettrico, del veicolo BEV, rispetto all'efficienza di un veicolo elettrico che invece si muove a celle di combustibile. Io ho letto dei dati assolutamente incontrovertibili, per cui il veicolo elettrico BEV ad oggi ha un'efficienza di varie volte superiore alla sua controparte a idrogeno, allo stato dell'arte e della tecnologia. È vero o no? Dunque, il tema è ampio. Mettiamo da un lato quindi il BEV, motore elettrico, batteria, e dall'altro abbiamo come combustibile, come vettore energetico l'idrogeno. Allora, qui chiamiamo in causa evidentemente il concetto cosiddetto well to wheel, cioè dal pozzo alla ruota, well to tank e tank to wheel. Allora, fermo restando che, come sappiamo, il motore elettrico non è un problema, anzi è la cosa buona, il problema sta nella batteria, per tutto quello che abbiamo sentito oggi. Sulla catena energetica da batteria ho detto qualcosa prima, cioè dipende... Dall'altra parte abbiamo l'idrogeno. Allora, l'idrogeno in natura è abbondante, c'è nell'acqua, c'è negli alti stati dell'atmosfera, il problema è che non c'è in modo isolato, o lo estraiamo dal metano, o lo prendiamo a livelli molto alti dell'atmosfera, o scendiamo la molecola d'acqua. Allora, a questo fine, noi possiamo usare più fonti energetiche. E il well to tank cambia moltissimo. Allora, per fare degli esempi concreti. Partiamo dall'energia che usiamo oggi nei trasporti, cioè derivati da petrolio. Per il gasolio, il well to tank, mi pare che sia a grosso modo 1,16, cioè in media europea ogni 6 barili di petrolio, 1 va usato per l'approvvigionamento, la distribuzione e metterlo a disposizione nel serbatoio dell'auto. Ok? Su 6, 1. Nell'idrogeno questo numero varia molto di più, perché su media europea, sul mix energetico, mi pare che superi 4. Cioè vuol dire che ogni 4 unità di volume di idrogeno, perdono, ogni unità di volume di idrogeno messa a disposizione di un'auto, 4 vanno persi per renderla disponibile. Quindi energeticamente... Come? E molto varia, dipende dal mix. Adesso ci arrivo. Dall'altra parte, l'altro estremo, è un valore inferiore molto basso se ad esempio pensiamo a trattori agricoli che usano idrogeno prodotto da biomasse. Allora in tal caso il well to tank, essendo prodotto localmente da biomasse, abbatte. Poi che sui media arriviamo a 2, 3, abbiamo dei valori del genere. Quindi cosa vuol dire? Che a seconda che sia idrogeno verde, blu, grigio o quant'altro, noi oscilliamo tantissimo. Allora, chi sta sperimentando l'idrogeno? Quei vettori di trasporto non energetici che hanno, diciamo, una capacità di scelta centrale e pochi operatori che si adeguano, tipo il ferroviario. Quindi al posto del gasolio, dove le linee non siano elettrificate, quest'anno iniziano a operare dei treni ad idrogeno. Ma ho punto su una produzione locale, e così viene fatto nel caso specifico, con dei professionisti che conoscono l'elevata volatilità e infiammabilità dell'idrogeno, sanno con che tipo di molecola hanno a che fare e quindi si comportano di conseguenza. Diverso è il caso, e si va poi su quei numeri, di una catena di distribuzione globale, o diciamo su scala ampia. Allora, il generico utente dell'auto che faccia rifornimento di idrogeno abbia una catena di distribuzione, a quel punto è chiaro che quel numero cresce molto. Quindi un conto è il trattore agricolo da biomasso e un conto è il generico autoveicolo. Un altro conto ancora è il treno con idrogeno prodotto localmente. Mi scusi, ma per esempio gli utenti che pesano meno sulla catena distributiva, per esempio le flotte dei camion, dei tir che fanno dei percorsi più o meno costanti che possono andare a rifornirsi in luoghi ben definiti, o gli autobus di lunga percorrenza che ho anche di breve percorrenza. Ecco, quelli hanno un perché, mi pare di capire, maggiore del veicolo privato che obiettivamente con l'idrogeno è un po' ancora ai limiti del possibile. Sì, non li ho citati prima, ma rientrano evidentemente in una categoria tipicamente di professionisti che sanno cosa devono fare, con le dovute cautele, attenzione e così via. E oggi gli scenari prevedono quattro alternative che sono il biodiesel, i combustibili, gli fuels, l'idrogeno, il metano in forma compressa più adatta a percorrenze brevi, non solo gli autobus urbani, o in forma liquefatta, adatta invece a percorrenze di centinaia di chilometri. E questo è quello che il mercato dei mezzi pesanti oggi ha di fronte. Quindi metano, biometano, compresso liquefatto, idrogeno, con le varie fonti da cui arrivano, biocombustibili, le varie fonti. Qual è il problema di tutto ciò? Che il petrolio, con la sua egemonia di un secolo e oltre, ha creato delle economie di scala tali per cui esistono economie di competenza, di produzione, di distribuzione, di ricambi, e in tutto il mondo più o meno è così. Nel momento in cui si rompe questo monopolio e non esiste l'alternativa, forse i cinesi vorrebbero l'alternativa unica per godere di tutte queste economie di scala sull'elettrico puro, ma di fatto questo non soddisfa, come prima la domanda, la soddisfa in un altro modo, come abbiamo capito, nel momento in cui rompo il monopolio io ho delle alternative, che siano 3, 4, 5, in ogni caso non hanno più quell'economia di scala di cui parlava prima anche Stellantis, che fino adesso l'auto ha avuto e i mezzi pesanti hanno avuto. Quindi qual è il mercato che si profila? Probabilmente un minore utilizzo dei mezzi privati, auto, dei mezzi pesanti, a vantaggio di una logica che prima accennavo solo, gerarchica dei trasporti, dove almeno in Europa le connessioni metropoli-metropoli possono avvenire di più via ferro, si scende a livello locale e si usa la metropolitana, il trasporto pubblico, l'auto, la micromobilità, si va a piedi, e in questa logica gerarchica che si colloca tra due estremi, un estremo, scusate se esagero apposta, è non mobilità, cioè lavoro da casa, faccio la teleconferenza, ordino le cose, mi vengono portate a casa. L'altro estremo è la continuazione di quello che abbiamo avuto nei decenni passati, cioè l'auto che domina le matrici origine e destinazione, cioè vuol dire casa lavoro-auto, casa scuola-auto, casa tabaccaio-auto, casa divertimento-auto, questa è la matrice dei decenni passati, tra questi due estremi c'è uno scenario che è quello che secondo me oggi è più verosimile, dove l'auto perde un po' di egemonia, a vantaggio di una logica gerarchica, treno, metro, trasporto pubblico, auto, piedi, bici, sharing e così via, e se l'auto riuscirà a soddisfare la domanda di mobilità motorizzata, avrà un ruolo ancora importante, ma questo lo stiamo decidendo in questi giorni, cioè con questi dibattiti, se l'auto punta a essere solo elettrica, punto di vista personale, non riuscirà a soddisfare queste esigenze e quindi perderà quote importanti. Certo, Ha allargato moltissimo la visuale, ci ha dato anche uno sguardo abbastanza completo e preciso su un possibile futuro. Peraltro la morale della nostra mostra che ci aspetta al piano di sotto è proprio questo, cioè il mosaico di soluzioni che ci aspetta. L'elettrico da solo probabilmente non è la strada possibile, anche se è quella tecnologicamente più matura che già funziona bene perché le macchine elettriche sono straordinariamente comode ed efficienti. Però, quello che noi dobbiamo pensare di qui al nostro futuro di 10-15 anni e oltre è di un insieme di risposte che sarà componente elettrica di veicolo a batteria, di idrogeno, di fuel, soprattutto, e più allarghiamo il nostro campo di osservazione e guardiamo il mondo nel suo complesso con tutti i problemi che esso ha, i paesi che sono molto diversi da noi e più questo credo sia incontrovertibile. Allora, sono le 19, anzi qualche minuto passato dobbiamo chiudere è stato molto bello ascoltarvi è raro anche avere un gruppo di persone come voi mi sembra che avete coperto un po' tutto questa discussione che ovviamente è un approfondimento ma avrebbe potuto essere ben più profonda ancora ma noi non siamo un'università siamo un museo per cui per il momento ci accontentiamo e vi ringrazio tutti soprattutto chi è venuto anche da lontano e darei cinque minuti se ancora li avete ai nostri ospiti per delle domande che sono già quattro e vi raccomando la domanda molto breve in modo da iniziamo dall'ingegnere Fioravanti che è in prima fila ingegnere sintesi perché dobbiamo andare a casa sinteticissimo perché il tono generale di questi interventi è negativo ho capito perché l'Italia è l'ultima in Europa nel campo delle vetture elettriche veloce un esempio in parte citato ci sono delle navi elettriche fatte in Italia a Napola da Grimaldi ci sono degli aerei elettrici in Europa fatti da quella piccola società concorrente Airbus della Boeing ci sono dei motoscafi elettrici in riva totalmente elettrici ci sono le biciclette elettriche di Anki ci sono quei piccoli oggetti che si chiamano come si chiamano i piccoli oggetti monopattini esatto ci sono monopattini elettrici esco dal campo dei trasporti ci sono gli spazzolini elettrici per i denti allora questa magia del motore elettrico perché ci intestiamo in alcuni casi a non applicarla alle automobili ma siamo pazzi in Europa sono scemi perché nell'Europa del nord in Germania in Francia la maggior parte dei velicoli prodotti sono elettrici in Cina che è un'altra nazione un altro popolo sono più del 40% quindi la domanda è perché questa stranezza grazie da chi partiamo c'è un pregiudizio c'è un complesso c'è un ragionamento c'è una retratezza di vedute dottoressa Lisbona vuole rispondere lei io avevo pensato un po' è vero arrivando dall'estero ogni tanto si ha questa sensazione a Londra dove tutti i piloni della luce dei quartieri residenziali hanno due prese elettriche per le ecco ma dica lei ma io speravo di non aver dato un'immagine così negativa cioè io come Stellantis credo che il commitment sull'auto elettrica sia sia una cosa abbiamo io rispondo però insomma il successo della 500 elettrica è una cosa che ormai ha qualche anno di successo adesso l'abbiamo lanciata in Nord America quindi forse io non ho non ho dato una visione negativa se lei è d'accordo ecco quindi quindi passo il testimone generale sentiamo Boni hai qualcosa da dire tu da giornalista sì io direi che l'approccio all'elettrico va visto con diciamo senza pregiudizi ma solo con un rapporto costi benefici che ognuno deve fare a proprio uso e consumo ci sono condizioni in cui l'elettrico già oggi è estremamente vantaggioso e altre in cui ancora non lo è di volta in volta ognuno dovrebbe fare un ragionamento scevro da pregiudizi appunto per individuare se la soluzione dell'elettrico è quella migliore per le sue necessità e io nella mia vita quotidiana parlo con gli amici con i conoscenti con colleghi e quant'altro e mi rendo conto che spesso ma mi ci metto anch'io per la carità c'è una componente di come dire di resistenza anche alla novità e alcuni che avrebbero già adesso le condizioni al contorno indispensabili migliori magari hanno il fotovoltaico hanno la wallbox hanno un utilizzo quotidiano ridotto della vettura se uscissero dall'automatismo o la macchina normale compro un'altra macchina normale facessero bene i conti probabilmente già oggi tra l'altro sono in arrivo incentivi estremamente vantaggiosi per chi deve rottamare una vettura non freschissima potrebbe facendo i conti per bene quindi tenendo conto anche del ciclo di vita della vettura per cui dei costi di manutenzione di utilizzo e quant'altro potrebbe avere già una convenienza anche economica e anche nelle condizioni migliori un utilizzo che non gli cambia la vita in termini di ricarica quindi rispondendo all'ingegnere c'è una pigrizia di approccio un conservatorismo come sempre l'Italia poi per tornare al discorso al di là della questione economica che comunque oggi è ancora importante perché il delta come dicevo prima è notevole la spesa che uno deve affrontare però quello sappiamo che si ridurrà per gli incentivi che sono in arrivo e per il frutto della ricerca medio termine certo ma le automobili elettriche sono scese clamorosamente se poi io non l'ho accennato prima perché non è avuto il tempo ma già oggi la Tesla ha un approccio disruptive come dicono perché sta vendendo se negli altri segmenti il delta è a sfavore l'auto elettrica nel caso del segmento D delle vetture diciamo medio alte è a favore dell'elettrica la Tesla Model 3 costa molto meno di una vettura tradizionale della stessa categoria di volta in volta bisogna guardare senza pregiudizi senza pregiudizi il signore voleva tutti e due scusate facciamo buonasera io sono il professor Bassignana dell'istituto Edoardo Agnelli problema della Fuel Cell come si era detto prima io ci credo soprattutto sui veicoli più grossi ferroviari bus Torino 2006 Olimpiadi Invernali c'era un bus che adesso è rottamato in via Gorini che girava Fuel Cell e lì non sarebbe male secondo me spingere in quella direzione anche perché loro ottenevano l'idrogeno per idrolisi con un contratto con la CVA compagnia Valdostanacque che usa l'idroelettrico per cui si può dire 100% green tra l'altro parte in Lombardia l'esperienza del terreno a Fuel Cell Brescia Edolo e anzi fatto mi sembra da Alstom di Savigliano e in Sardegna Stadler gli svizzeri stanno facendo una linea a scartamento ridotto a Fuel Cell nel nord della Sardegna Dorsale Alghero Sassa Riolbia sono due esperienze entrano in preesercizio adesso nel 24 quindi penso che siano da seguire con molta attenzione domanda io leggevo che però c'è il problema del rapporto lunghezza della tratta investimento perché se la tratta è più corta di 100 km conviene andare a Fuel Cell se invece è più lunga conviene elettrificare noi abbiamo in Italia molte tratte minori che sono state chiuse alcune vengono riaperte a livello turistico qui in Piemonte tantissime Saluzzo Moretta Le Langhe Castagnole Lanze eccetera lo vedrei abbastanza bene adesso la Val d'Aosta aveva un treno ibrido BTR 518 che adesso non so cosa ne faranno adesso che elettrificano comunque funziona così mi domanda anche un altro io ricordo quattro ruote qualche anno fa aveva fatto i giornalisti una prova penso ma però prima ancora del periodo covid di viaggiare in auto elettrica da Milano a Roma ed è avvenuto i grossissimi problemi per trovare dove andare a caricare e ovviamente a parte il tempo domanda infrastrutture all'ingegnera io so che Saab Scania sta provando camion col pantografo in modo che entrando in autostrada io non pago solo il biglietto ma prendo anche la corrente oppure in alternativa sistemi interrati per captare l'energia questo vuol dire che io viaggio da Torino a Catanzaro con l'auto elettrica che non ha bisogno di essere caricata grazie Silvia voglio rispondere a lei io posso dire che la mostra si occupa tra l'altro abbiamo esposto proprio uno dei un frammento di asfalto con le piastre a induzione i costi sì che ci ha fornito la Brebemi però i costi industriali di questo impianto sono paragonabili a quelli di una ferrovia quindi l'Unione Europea non a caso ha detto soldi per l'induzione non ne mettiamo perché preferiamo fare delle ferrovia a parità di costi sì anche perché magari la dispersione di energia è significativa però mi viene anche da dire che rispetto a quel famoso articolo di quattro ruote sono cambiate le cose e cambieranno sempre di più anche in questo il tempo sta rivoluzionando il servizio le cose cambiano molto velocemente Marco veloce Marco Bava nostro affezionatissimo collega che non manca una conferenza stampa sempre velocissimo la premessa è che l'auto elettrica ha un limite di spazio e di tempo per le ricariche che non si concilia con la mobilità e con il movimento per cui la soluzione per me è l'auto a idrogeno che sembra una cosa fantascientifica ma è semplicemente un'auto elettrica sopra il motore si mette la full cell si tolgono le batterie che pesano e inquinano si mettono delle bombole e l'auto a idrogeno è semplicemente un'auto elettrica con queste due varianti che risolverebbero tutti i problemi che abbiamo visto qua io ho guidato io ho guidato la BMW X5 e per la prima volta ho usato la B per recuperare al massimo l'energia in assetto sport gente che aveva avuto le X5 più performanti si è trovato con le stesse prestazioni con dei consumi molto esiste anche la Toyota e Stellantis guarda che nella mostra abbiamo un vostro furgone estruito dalla Opel che già circola nelle strade tedesche ed è la flotta della Mille degli elettrodomestici Mille e se ne va bellissimo il problema è come lo fai questo idrogeno quanto ti costa fare e come lo distribuisci in una rete che non esiste in una rete che non esiste rispondo anche a questo Stellantis che qua fa la fabbrica per smontare non per creare in Francia sta sviluppando tutta la tecnologia a idrogeno in segreto quasi perché lo sanno solo in Francia andate su Google impostate Stellantis idrogeno e vedete cosa fa in Francia quando glielo ho proposto qua in Italia neanche mi ha risposto allora è semplicissimo dove ci sono delle reti dove c'è attualmente gli altri combustibili si mette un idrogenatore che è semplicemente una macchina che usando l'elettricità rinnovabile produce idrogeno quindi l'auto arriva lì e le dimensioni possono essere quelle e signora non è così strano si mette come c'è la bombola del GPL quella del metano quella che noi non vediamo di qualsiasi altro compurante si mette questo idrogenatore usa dell'acqua semplicissima anche di recupero con l'elettricità e può rifornire da domani mattina questo e questo permettimi di dire due cose no di finire non è una domanda ma sta facendoci un elezio magistrale fuori tempo massimo perché tu non la vedi ma c'è una signora lì Bruna che mi può così come dire ma cosa parla questo qua e io gli dico guarda l'ho guidata so che si fa così dico solo una cosa che l'auto elettrica di cui anche oggi abbiamo parlato è semplicemente un paraocchi e i carburanti i famosi combustibili fossili sono quelli che alimentano le guerre quindi con l'auto idrogeno probabilmente non ci sarebbero neanche più fondi per le guerre ma sarebbe sarebbe bello ma dipende poi come viene fatto questo idrogeno anche lì il potere ecco va beh scusi ancora velocemente questo signore qui e poi vi saluto buongiorno Maurizio Traversa la prego lavoro un terzo della mia vita in Cina il 20% scusi una statistica dice che il 60% dei chilometri volti in una città parlando di problemi di città sono fatti dai taxi c'è il mondo del battery swap dove ci sono già c'è 16 case automobilistiche che cambiano le batterie dove la batteria viene ricaricata all'interno di stazioni perché poi in Italia nessuno ne parla Stellantis ho già inconosciuto ho già visto so che sta facendo Ampel però è un sistema moduli molto lento sono 5 minuti mentre il suo sistema cinese sono 20 secondi perché non viene preso fortemente in considerazione per le città perché poi il problema grosso è quello il 60% dei chilometri in Cina fatte dalle auto sono fatti dai taxi quindi il pubblico chi vuole rispondere dottoressa credo che sia un tema europeo che non si sta ancora puntando sul taxi con fronte alla Cina ma credo che man mano che andrà avanti con lo sviluppo dell'elettrificato credo che la soluzione per i taxi sarà anche affrontata ma io sto parlando a livello dell'industria insomma quindi credo che arriveremo abbiamo parlato della Cina come una nazione molto avanti nell'elettrico quindi è una strada è una strada tracciata penso che tutti i costruttori affronteranno affronteranno il tema benissimo grazie ancora grazie a voi che siete stati qui per più di due ore spero che sia stato interessante e che tornerete per il prossimo dibattito a fine marzo sugli e-carburanti i fuel bio fuel ed intorni grazie e buona sera grazie